Salve a tutti, bentornati ad Annaffiamo le radici, una piccola rubrica quindicinale dedicata al dialetto senigallese. Oggi ho attinto di nuovo all'ampio cassetto di cose dialettali di Laura Negro, nostra concittadina, drammaturga, poetessa, di cui vi porgo Ma come se Paul parla d'amor in questo dialetto nostro? Chi ingavina la lingua, che mozziga i labbri, che scorcia le parole e le staiuzza Che non discorre, fa cagnare, che non urla, sgaggia, che non sospira, fiotta Ma come se Paul parla d'amor? Però te non parlavi, te ma guardavi fis, sai occhi stretti E io, io era il solo Breve ma intensa Arrivederci Grazie 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 Grazie.